Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati cari amici, ben ritrovati. Nella domenica del premio Cazzabubbola per l'articolo di Teo del quale abbiamo parlato nel corso della rassegna stampa, un articolo assolutamente vuoto di contenuti, ma proprio non c'è scritto nulla di ciò che promette anche il titolo, insomma si dice ma si parleranno in un incontro che non è ancora stato fissato per un rinnovo di Teo che sarà adeguato ai livelli dei giocatori più importanti della rosa, però attenzione sperando che non arrivino offerte da fuori, cioè praticamente la sagra davvero del nulla. Io capisco che si debbano riempire pagine perché ogni giorno si deve scrivere di qualcosa, ma questo articolo veramente mi ha fatto sorridere, l'ho letto questa mattina nella rassegna stampa e tra l'altro gli amici del gruppo Whatsapp ne erano già a triste conoscenza, ma al di là di questo che sarà ovviamente un tema come quello del rinnovo di Mike Magnan e come capire in che modo si farà spazio per questa cosa all'interno dei conti del Milan, che sappiamo sono sempre molto precisi, attenti e anche abbastanza delicati nella gestione dell'equilibrio tra il costo della rosa e il rapporto tra fatturato, costo della rosa e tutti questi valori che per noi sono piuttosto bassi rispetto ai numeri che facciamo in termini assoluti, però vabbè così è, prendendo atto di questo, possiamo commentare alcune indiscrezioni di mercato che sono giunte in questi giorni e alla fine vi lascerò quella più bella di tutte perché dopo due anni finalmente ci viene accostato un giocatore di livello internazionale. Sto scherzando ma neanche tanto poi alla fine. La prima cosa che voglio dire oggi riguardo alle voci di mercato è che mi sembra che ci sia, non dico piena chiarezza, ma mi sembra che in questo momento, in questo momento quindi al 14 di luglio, si sentano delle voci che sono abbastanza collegate con la realtà, abbastanza collegate con le necessità del Milan e secondo me anche in un certo senso con una valutazione che è stata fatta degli acquisti dell'anno scorso, della nostra rosa in generale, di quelle che possono essere le necessità, come ad esempio il fatto di non escludere del tutto la permanenza di Sallemaker al Milan, forse più come utilizzo di terzino destro. Anche in questo caso io personalmente, avendo sentito di un Fonseca che potrebbe utilizzare Calulu a destra e avendo sentito di una trattativa per Emerson Royal che si è quasi interrotta, beh sinceramente ne ho di che essere soddisfatto perché era inutile andare a buttare via i soldi per un giocatore che non aggiungeva assolutamente nulla a questo Milan. È meglio provare Calulu, è meglio considerare la situazione di Calabria che ricordiamo ha un contratto in scadenza il prossimo anno e poi vedere il discorso di Sallemaker che secondo me è un giocatore che in una rosa ci può stare, anche perché poi c'è il discorso offensivo, cioè là davanti sappiamo che arriverà Morata la prossima settimana e poi si parla del secondo centro avanti, si è parlato di Ebram e si è parlato di una serie di operazioni che pare siano state proposte alla Roma come contropartita, ovvero quella di Jovic prima e Okafor dopo. Ora queste operazioni mi fanno, questa idea ecco mi fa pensare che probabilmente sono state fatte delle valutazioni un pochino più approfondite sia sul livello dei giocatori sia sulla loro reale utilità nel Milan in generale, nel Milan di Fonseca nello specifico. Intendo dire che Jovic non è un giocatore adatto a fare la prima punta, lo sappiamo, non è un giocatore che io avrei confermato, lo sapete, però Okafor vale un po' la stessa situazione, è una di fatto è una seconda punta, ce l'ha detto anche Iacchini, commissario tecnico della Svizzera, così come ci ha fatto intendere anche che insomma probabilmente c'è qualcosa che non va con il ragazzo, c'è qualcosa che non va nemmeno un minuto agli europei, alcune voci che arrivavano dalla stampa svizzera di insomma di qualche problema ecco, di qualche problema in allenamenti eccetera eccetera, quindi anche lì la valutazione secondo me è una valutazione corretta se ci fosse la possibilità. Adesso poi il discorso Ebram c'è chi piace, c'è chi non piace, ieri parlavo con Enrico mi ha detto assolutamente no Ebram non lo voglio perché ho visto giocare dal vivo, non sei un giocatore a Milan eccetera, ma al di là della valutazione su Ebram che a me personalmente non dispiace come giocatore al netto di valutazioni sulle condizioni fisiche, ma credo che ecco si sia un pochino più orientati, orientati, dopo questo sì lo valuteremo alla fine del mercato, questo sì, ma si sia un po' più orientati con idee chiare su quello che serve effettivamente a questa squadra, l'anno scorso si sono comprati tanti giocatori, molti dei quali o doppioni o non adatti a fare nessun tipo di calcio e infatti abbiamo visto i problemi che Pioli ha avuto nell'arco della stagione per cercare di sistemare le pedine in modo che potessero avere un senso per poi rassegnarsi all'idea di dover fare un gol più dagli altri, quest'anno mi pare che si sta ritornando un po' sui sui propri passi, si è parlato anche della possibilità di ascoltare offerte per Reinders eventualmente, chiaramente giocatori che hanno mercato, perché mi pare in questo momento difficile qualcuno venga a fare proposte per Loftus Cic ad esempio, oppure anche per lo stesso Iovic o per lo stesso Okafor che sono giocatori che andrebbero appunto eventualmente inseriti all'interno di una trattativa per andare a prendere dei giocatori che possano essere funzionali al gioco di Fonseca e anche in un certo senso al costruire Anarosa in un modo logico, in un modo sensato, ecco questo è un po' il discorso, quindi ad esempio il discorso Pavlovich, poi è chiaro che si potrebbe entrare nel merito del valore assoluto dei giocatori e del fatto che il Milan ormai punti, lo sappiamo, punti 20-25 massimo, quello è il nostro tetto massimo di spesa, il che fa sorridere come sempre perché il Napoli ne ha appena spesi 30 più 5 mi pare di bonus per Buongiorno, che poteva essere anche per noi un giocatore interessante, ma noi sappiamo che insomma purtroppo la scelta della nostra dirigente, della nostra proprietà è questa, è quella di limitare molto il nostro raggio d'azione dovendo andare su profili appunto che non costino più di così, ma lasciando da parte un attimo questo che è un discorso che conosciamo, è purtroppo una situazione che conosciamo, sappiamo che è così ed è inutile, continuiamo a dirci che sono spilorci e lo sappiamo, non è questione di spilorceria, è questione di conti e quindi di investimenti e di rischio, di gestione del rischio, ce l'ha spiegato Matteo molto bene, quindi è chiaro che questo è il dato di fatto e noi dobbiamo prendere coscienza con la realtà, sottolinearlo sempre, ma prendere anche coscienza con la realtà e allora in questo discorso, in questa presa di coscienza della realtà, un profilo come quello di Pavlovich che non è in assoluto il miglior centrale mancino del mondo, ma è un giocatore che può dare una mano, che può aiutare, lo stesso discorso vale per Fofanà se arriverà, è un giocatore, sono tutti, vedete, sono tutti giocatori, vedete anche perché il lavoro di Fonseca sarà molto importante, sono tutti giocatori che non spostano il livello complessivo della squadra, cioè sono tutti profili, ma anche lo stesso Morata, Morata per Giroux, speriamo che possa fare almeno come Giroux, ma sono tutti profili che non alzano in maniera sensibile il livello della squadra, ma ecco, sapendo di non poterlo fare, anzi di non volerlo fare, noi dobbiamo augurarci che una logica guidi la mano delle firme e degli acquisti, no? Quindi, ti serve un mancino che, diciamo, fisico di marcatura c'è, perfetto, ti prendo questo perché questo posso prendere, ma voglio prendere questo, va bene, ok, te lo prendo. Ho visto che Okaforo e Iobici non sono utili al nostro gioco, perfetto, cerco di inserirli nella trattativa per prendere un giocatore che possa essere invece un'alternativa Morata come punta centrale al riferimento perché tu vuoi giocare 4-3-4-2-3-1. Bene, ecco, questo vedo almeno leggendo i giornali e seguendo un po' le cose di mercato e questa è una buona cosa dal mio punto di vista, dopo tutta da provare, tutta da accertare, ma è un modo, secondo me, molto più logico di operare sul mercato rispetto a quello che si è fatto l'anno scorso, dove si è preso un tanto al chilo, tanto per far vedere che si faceva. Ok, poi sul fatto che ad esempio il solo Fofanà non basti per rimettere a posto un centrocampo disastrato come il nostro, lo sappiamo, lo sappiamo, però vediamo, questo era il ragionamento di oggi. Chiudo con la notizia, potrebbe essere la notizia dell'anno, ovvero l'interessamento del Milan per Niklas Fulcroc. Cosa volete che vi dica? Si sfonda una porta aperta per quel che mi riguarda, Fulcroc, che secondo me è uno dei migliori attaccanti in circolazione e non lo dico con sarcasmo e ironia, lo dico davvero. In rapporto a quanto è stato pagato anche dal Borussia Dortmund, in rapporto alla confidenza che ha con il gol, in rapporto a quanto sia stato decisivo anche in nazionale, o comunque diciamo sia sempre entrato nel vivo della partita per le sue caratteristiche, per il suo trascorso, cioè un calciatore kashavit in piena regola, un ragazzo che si è fatto una carriera importante, che si è sbattuto come un matto, che ha capito dall'inizio che cosa volesse dire lavoro, sacrificio, impegno per raggiungere un risultato ed è un profilo che veramente io prenderei immediatamente se ci fosse la possibilità, anche perché darebbe, innanzitutto non è scarso con i piedi, come molti pensano, perché in tanti magari non l'hanno visto bene e credono che sia il classico centravanti d'area, sì è il classico centravanti d'area, è un po' anche diciamo come tipo di giocatore un ritorno a un passato di centravantoni, parlavamo un anno fa dei centravantoni, ma è anche uno che può giocare con la squadra, è bravo di testa, ha il senso dell'anticipo, secondo me può essere anche, visto che si parla molto in queste ore del fatto che Morata arriverà e sarà probabilmente la chioccia fra virgolette di Camarda, perché l'intenzione della società potrebbe essere quella, poi fra un paio d'anni di portare Camarda stabilmente e quasi titolare in prima squadra, secondo me uno come Fulcrook ha delle caratteristiche, ha delle capacità che potrebbero aiutare persino chi deve crescere per rubare qualche cosa relativa ai movimenti, l'anticipo, il senso di dove andrà il pallone, è chiaro che tante di queste sono cose innate, però qualcosina si può anche trasferire, quindi io sarei assolutamente d'accordo con l'arrivo di Fulcrook, sia perché è un giocatore che ci può stare benissimo nel nostro gioco, benissimo, molto meglio di Jovic, molto meglio di Okafor, e poi perché è un giocatore che ha delle qualità che secondo me in Serie A potrebbero fare davvero la differenza, quindi speriamo, se dovesse arrivare Fulcrook quasi quasi mi compro pure la maglia, e a voi piace? Scrivetelo qua sotto nei commenti, grazie e buona domenica!